Prime dichiarazioni di intenti di Crocetta in occasione della presentazione della nuova giunta. L'intervista a Michele Cimino, leader agrigentino del PDR, Davide Saia. La rivoluzione di Rosario Crocetta fino adesso ha interessato solamente la componente di governo. Governo che per stessa ammissione del governatore era ormai in fase stagnante e che ora con la nuova giunta, ribattezzata della pace, potrà dare il vio ad un nuovo inizio. Ma i rinnovamenti non si limiteranno soltanto alla componente prettamente politica poiché sono stati annunciati dei cambi che interesseranno i dirigenti generali. Un velato mea culpa, figlio probabilmente, della mala gestione del settore e della formazione e che comunque rimodulerà con moderazione la macchina burocratica senza tagli di teste ma prevedendo soltanto un ricollocamento per i dirigenti inefficienti. Così Rosario Crocetta, forte della fiducia e della rinsaldata alleanza con la maggioranza di Saladeccole, afferma la necessità di mettere in ordine i conti della regione per poter interloquire con Roma e l'Europa e il bisogno di rilanciare il dialogo con le opposizioni per mettere in moto il processo di riforme. E su quello che sarà il nuovo corso del governo è intervenuto il deputato regionale Michele Cimino, il quale commenta favorevolmente la nuova fase politica sancita dal Crocetta Terra. Penso che questa sia una vera e propria aggiunta di coalizione, di programma per le riforme da attuare con urgenza in Sicilia, per dare chiarezza al bilancio regionale e soprattutto per portare avanti quella battaglia per la rinascita di una regione che necessita di uno sviluppo economico. Questo governo è un governo autorevole con dei tecnici che hanno delle professionalità acquisite negli anni, già di fatto vi è un tavolo di lavoro per le riforme da proporre sia nel settore urbanistico ma anche nel settore dell'agricoltura e nel mondo delle attività produttive. Sono fiducioso che questo governo di legislatura possa dare quelle risposte che i siciliani da tempo ormai attendono.